prima di iniziare a guardare il video vi ricordo se non lo siete già di iscrivervi al canale attivare la campanella delle notifiche lasciare un like e leggere sempre la descrizione del video benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video dei progettini come avete letto dal titolo andremo a creare o meglio a programmare un emulatore della macchina di touring in c un motivo fa più ridere dell'altro del perché ho voluto farlo e del perché ho scelto c no vabbè a parte gli scherzi a parte l'ironia insomma l'idea è nata stamattina ma stamattina sto parlando alle 1 2 di notte perché quando mi scimmio così tanto in qualcosa non dormo infatti sono crollato mi sono addormentato alle tre e mezza alle 9 mi sono svegliato ho fatto le video lezioni veramente l'ho fatto poi in un'ora dopo ho mangiato il programmino quindi faccio una piccola precauzione non è il massimo della bellezza visiva il codice ok propria stesso funziona questo è l'importante se poi volete voi fare una versione e qua vi chiedo veramente tanta pace chi di voi lo fa ha davvero tanta pazienza in una versione migliore un altro linguaggio e quant'altro sarei anche contento di portarlo sul mio canale youtube mostrarlo dire che l'avete fatto voi magari anche se avete una pagina github farvi pubblicità perché comunque siete stati bravi tanto di cappello tornando al discorso senza troppo divagare tutto è nato quando ieri ho fatto il sondaggio su telegram che se non avete votato andate a votare si qua è tristissimo io volevo la codifica dei numeri interi reali perché anche io ho votato e volevo quella fa stesso perché complemento 2 ci sta vera simpatica vabbè sta vincendo l'architettura dei computer ugualmente le votazioni sono aperte fino a quando non uscirà il video sulla macchina di touring non questo ma quello teorico quindi se e quando vedrete in questo video in futuro sarà per la vostra prima volta in alto a destra forse già ci saranno le schede della macchina di touring teorico e il video sugli automi quindi se non conoscete la macchina di touring o gli automi il tutto potrebbe esservi utile perché adesso insomma cercherò di spiegarvelo in maniera più semplice possibile ma non è propriamente così così semplice sia spiegarlo che capirlo di primo impatto comunque andate a votare iscrivetevi al canale telegram perché lì lascio sempre tutti gli aggiornamenti della community allora che cos'è la macchina di touring in soldoni è un modello matematico del famoso matematico alan touring inglese la macchina di touring è una macchina astratta una macchina astratta il cui compito è quello di riuscire ad analizzare un algoritmo e stabilire se esso è risolvibile o meno in una macchina fisica che poi viene eseguito quindi andare già a creare un emulatore fa un po ridere una macchina astratta va bene che tutto qui all'interno di un computer è astratto eccetto l'hardware però appunto la macchina di touring è un modello matematico va bene potete anche tranquillamente farlo su carta anzi vi trovate meglio a farlo su carta che a farlo così però volevo farlo online ci sono i simulatori gli emulatori quindi va beh mi dovevo togliere un pochino questo sfizio ma appunto la macchina di touring lavora in un modo abbastanza complesso voi in maniera appunto astratta provate ad immaginarvela è una sorta di nastro potenzialmente infinito non che sia infinito di per sé ma che i dati che può contenere sono infiniti cioè non posso andare avanti quanto voglio inserire i dati da analizzare che lavora poi con una testina ok che si muove a destra a sinistra e legge i valori delle celle i valori delle celle sono singole quindi provate a immaginare un vettore magari sto provando a buttarvela così su un piatto abbastanza ben condito un vettore potenzialmente infinito niente errore di overflow che bellezza no vabbè dai online appunto una versione pratica è questa qui della macchina di touring come vedete provate un attimo a immaginarvelo questo è il vostro nastro in realtà mancano anche delle parti iniziali finali perché all'inizio delle nostre stringa da analizzare e sia all'inizio alla fine c'è un carattere speciale dell'alfabeto alfabeto dei caratteri che può gestire appunto viene chiamato alfabeto di lavoro il carattere speciale dipende può essere il landa la lettera greca io nel computer qua nel programma ho utilizzato il cancelletto è perché non avevo il landa quindi poco ci potevo fare il cancelletto che appunto contiene la stringa ma qua non c'è fa stesso questa qui la stringa di valori fate finta appunto che ognuno sia nella sua celletta ok ognuno singolo non tutti assieme ognuno è singolo e questa qui è la testina che si sposta a destra e a sinistra e che legge i valori singoli delle celle uno alla volta e che può al massimo sovrascrivere il valore che c'è al suo interno quindi la macchina di touring non memorizza i valori che sono presenti all'interno delle celle va bene bisogna partire su questo fatto perché riuscire a fare poi insomma gli algoritmi per touring non è sempre così immediato perché bisogna trovare un algoritmo che svolga l'esercizio senza andare a memorizzare i valori quindi anche lì ci vuole coraggio questo qui è un esercizio del sito inoltre semplice è la il numero palindromo quindi dato un numero 1 0 1 0 1 0 ti definisce se è palindromo oppure no quindi proviamo un attimo ad avviarla se è palindromo mi farà la faccina contenta se non dovesse essere palindromo quindi in questo caso andiamo a modificarla eccolo qua non è palindromo ovviamente mi darà la faccina scontenta piccola chiarezza facciamo un attimo chiarezza sulla macchina di touring non necessariamente da andare da destra cioè da partire dal primo carattere e andare fino alla fine la testina può essere messa in un qualsiasi valore della nostra del nostro nastro a livello teorico quindi non per forza di partire qua però per comodità nove volte su dieci si parte qui o da qui o dalla fine ma poco cambi perché sarebbe lo stesso algoritmo solo al contrario difficile che si parte in mezzo ecco e inoltre comunque un'altra cosa non è necessario che vada da sinistra a destra quindi potrebbe anche accadere che arriva qua e che poi torna a sinistra che poi va a destra che poi a sinistra a destra sinistra a destra si può muovere soltanto di una cella alla volta o a destra o a sinistra oppure il terzo movimento è f ovvero fermo in quel caso lì finisce l'algoritmo o meglio finisce l'esecuzione sulla macchina di touring e basta sei arrivati alla fine come funziona nel lato pratico ecco perché servirebbe il video sugli automi prima poi sulle macchine touring invece sta per una volta succede tutto al contrario prima faccio il video pratico su una macchina anzi su un emulatore a macchina di touring in c poi faccio il video teorico su una macchina di touring e poi faccio il video teorico sugli automi questo perché a voi è piaciuto così nelle votazioni o meglio questo video qua pratico non era in programma ma l'ho voluto fare così tanto per però le votazioni hanno avuto come vincitore prima touring e poi gli automi meglio gli automi sono io che ho detto che li faccio perché detesto lasciare le cose un po così spiegare touring senza spiegare gli automi non è troppo facile comunque proviamo a farcela dai com'è che ragiona ragiona con gli stati quindi ecco perché servono gli automi gli stati provate a pensarli come delle bolle ok nelle quali ci partono determinate ramificazioni verso altre bolle quindi altri stati sto provando un attimo a semplificarvelo nella maniera e questi stati qui quindi ricevono in input determinati dati sovrascrivono poi il dato letto quindi l'uno verrà sovrascritto da dipende cosa possiamo farlo sovrascrivere tutto ciò che ci pare piace dallo zero da uno spazio vuoto dipende dall'algoritmo cosa cosa ci impone di fare questo caso qua lui mette lo spazio vuoto vedete che lui cancella il tutto perché mette lo spazio vuoto ma appunto lo stato passa verso altri stati a loro volta gli stati passano ad altri stati fino a quando non si riesce ad eseguire tutto l'algoritmo e si arriva allo stato finale quindi f di fermo per la macchina di touring com'è che ho fatto io la macchina touring diciamo che l'ho un attimo non reinterpretata ma ho cambiato una cosa per la touring ci si può mettere o le tabelle quindi lavorare con gli ingressi di tabella o con diagrammi quindi stati finiti come abbiamo visto meglio come vi faccio vedere a voi nell'esempio delle bolle oppure con le quintuple io ho scelto le quintuple ma le ho rivisitate chiamandole quadruple adesso vi spiegherò il perché questo qua è il mio algoritmo tranquilli ve lo spiego può può sembrare difficile inizio soprattutto questa seconda parte ma tranquilli ripeto ve lo spiego allora sono partito con inserisci il numero degli stati quindi nel frattempo abbiamo anche la macchina che ho fatto io con ovviamente già ho anche un esercizio di esempio il numero degli stati gli stati vi oggetto che sono le bolle ogni algoritmo che andiamo a costruire può avere più o meno stati insomma dipende noi quanti utilizziamo io per l'esercizio che ho da fare ho ben quattro stati ora non si magari si può fare anche con meno o c'è chi ne fa con più ma io ho usato quattro stati meno stati hai meglio è a livello anche di costo il discorso è che l'esercizio che devo fare è dato una serie di uno zero uno zero anche qui separare tutti gli uno dagli zero lo vedrete poi a livello pratico bene cosa intendo quindi io avrei qua il cancelletto la stringa cancelletto di nuovo con all'interno la stringa lasciare dentro all'interno dei cancelletti tutti gli uno e fuori dall'ultimo cancelletto messo tutti gli zero quello lì è il mio esercizio da fare adesso che vi proporrò con le mie quadruple insomma non esistono le quadruple lo specifico non esistono è il modo in cui io ho fatto capire al programma come deve lavorare ma di preciso cosa sono le quintuple sono queste questa qua che vedete ora non so se nell'ingrandire faccio casini qua perfetto è accettabile queste si chiamano quintuple le quintuple contengono al loro interno 5 non valori ma diciamo 5 t che 5 stanze ok ora non mi ricordo nel lato specifico come si chiama ognuno ma semplicemente lo stato in cui ci si trova quindi questo qua è lo stato zero poi ciò che viene letto dalla mia testina ciò che viene sovrascritto nella casella nel caso ciò che veniva letto corrispondeva poi come si sposta la testina r sta per right quindi destra e l per left quindi sinistra e poi lo stato a cui bisogna passare va bene non necessariamente si deve passare uno stato per forza differente se vedrete ad esempio nelle mie che a volte rimango anche nello stesso stato non è un problema farlo comunque questa qua è la quintupla con queste informazioni io ho fatto la stessa cosa togliendo soltanto il primo valore quindi lo stato in cui mi trovo perché non mi serve nel modo in cui l'ho fatto io ho semplicemente detto lo stato a cui devi andare ciò che devi leggere e ciò che devi sostituire nel caso ciò che hai letto corrisponde e poi lo spostamento adesso torniamo nel codice quindi ho detto il numero degli stati io già vi dico ne ho usati 4 ed eccolo qua inserisci il numero di input per lo stato 0 quindi avrò lo stato 0 1 2 e 3 ok 4 stati questi qui sono gli input cosa sono sono i valori che va a leggere questi quindi in pratica cosa che gli ho detto gli ho detto quante quintuple o meglio nel mio caso quadruple dovrà avere ogni stato io per lo stato 0 ne ho utilizzate 2 per lo stato 1 3 per lo stato 3 scusate stato 2 ne ho usate 2 e per lo stato 3 di nuovo 2 ok adesso inserisci i comandi vabbè passiamo avanti quindi ho creato di per sé un vettore che tenesse le posizioni del numero delle vabbè cin era scritto cinquine inizialmente poi in realtà devo scrivere quintuple quindi il numero di tutte le quintuple che abbiamo o meglio nel mio caso quadruple perché vi ripeto non sono andato a lavorare con le quintuple ma con quattro valori io qua so che nella posizione 0 quindi che è il mio stato 0 corrispondono due quadruple nella 1 e corrispondono a 3 nella 2 2 ecco perché sono andato a lavorare in questa maniera qua e non direttamente a scrivere tutto lo stato in cui mi trovo perché forse poteva essere anche meglio francamente non mi ci sono subito trovato sentite l'ho fatto dopo pranzo in un'oretta così mi è venuto fuori così poi si può anche decisamente migliorare non lo escludo andando avanti quindi ho detto inserisci il numero vabbè il numero di input abbiamo scritto e crea quindi una matrice di caratteri al quale mi servirà nel quale mi servirà appunto andare a memorizzare tutte le mie quadruple in pratica si creerà questa lista qui ecco perché l'ho chiamata quadruple perché quattro valori vado ad utilizzare lo stato in cui devo andare ciò che leggo ciò che sovrascrivo lo spostamento della testina e come vedete questa qua è la suddivisione che avevo fatto quindi per lo stato 0 io so che ne avevo 2 e allora so che le prime 2 corrispondono allo stato 0 per la prima corrispondono 3 per lo stato 2 2 per lo stato 3 di nuovo 2 e ho questa lista però dove so che le prime 2 sono dello stato 0 queste qua sono dello stato 1 queste qua dello stato 3 e scusa 2 e questo qua sono 3 ecco perché ho agito in questa maniera senza delle quinte ma con delle quadruple tra virgolette e quindi l'ho detto inserisci i comandi che adesso andremo a copiare sì ho scritto scan f percentuale s per questa mia perché penso sia colpa di deb mi dava problemi con f gets e non avevo voglia di andare a installare di nuovo code block tutto quanto perché mille volte meglio ma francamente la voglia non esisteva la voglia non esisteva allora ho messo direttamente il percentuale s tanto bisogna rispettare per forza questa sintassi qui e lo sto dicendo per tu ma io lo cito è marco perché so già che tanto me lo scriverà me lo scriverà comunque stato in cui si va ciò che si legge ciò che si scrive posizione quindi adesso le copio perfetto quindi questa qua sarà la lista all'interno della matrice che avevate visto perché tanto io le posizioni le conosco dato che gliel'ho fornite io in questa maniera di tutti i miei comandi questo qua è l'algoritmo ok che andrà analizzare il mio emulatore ora dobbiamo inserire la stringa tra i due caratteri speciali che oddio ho sbagliato prima che avevo detto i cancelletti l'anno l'ho utilizzato poi a livello tecnico magari si utilizza il landa ma qua non c'era quindi il cancelletto andiamo a inserire la stringa tranquillamente anche qui scan f tranquillamente perché non penso che una persona vada a mettere 100 come come lunghezza proprio di stringa 100 caratteri ce ne vuole ok non mi interessano adesso gli errori di overflow comunque andiamo a inserire la stringa di 1010 quindi facciamone una semplice perfetto quindi 30 e 31 il suo scopo sarà quindi quello di raggruppare tutti gli uno all'interno dei due cancelletti quindi 111 cancelletto e poi 000 questo è il suo scopo inviamo inserisci il numero di cella da partire inteso per la testina vi ricordo che può partire da quello che vuole può partire da una qualsiasi cella generalmente gli ho messo il controllo la si fa partire dalla prima al 99 per cento dei casi o comunque anche dall'ultimo quindi da qua poi sta un po' a descrizione vostra dove farlo comunque dovete ricordarvi anche lì di modificare l'algoritmo avviamolo e come vedete questo qua è il lavoro che fa ora questo qua è un formalismo tecnico a livello grafico lui semplicemente mostra la stringa e questa linguetta qua che è la testina che si muoverà a destra sinistra quindi tralasciata nata questa qua è soltanto la grafica sciocca lo slip era per avere un attimo la pausa che avete visto di 100 millisecondi adesso arriva un attimo il ragionamento che ci ho fatto io io ho questa bellissima cosa ovvero gli stati io so che parto dallo stato zero si parte sempre dallo stato zero quindi dovrò considerare questi due valori però il problema nasce quando nell'effettivo dovevo valutare gli stati non so del numero 2 o del numero 3 perché io non so quanti ne ho effettivamente può essere che lo stato zero ne aveva 50 ma a quel punto lì dovevo dirgli che per lo stato 3 era il 53esimo cioè tra il 53esimo e il 56esimo i comandi che dovevo valutare e allora lì nasce un attimo il problema quindi lo stato inizialmente passa come zero ma facciamo finta che io dovessi anzi debba debba valutare lo stato 1 quindi i comandi di questo stato 1 va bene fatemi un attimo riscrivere il mini codice avevo scritto 1 0 1 1 vabbè fa stesso teniamolo così quindi lui parte da qua da questo 1 qui dallo stato zero legge il valore se vede l'uno lo sovrascriva di nuovo e torna allo stato zero e si sposta a destra di una linguetta quindi da qua ci spostiamo a qui a questo punto sempre nello stato zero perché ha detto spostati nello stato zero se leggi lo zero sostituiscilo con l'uno e vai a destra però spostati nello stato 1 quindi lui qua scriverà 1 si sposta a destra da analizzare questa questo carattere ma lui va nello stato 1 quindi adesso non dovrò più considerare questi due comandi ma questi tre e allora lì nasce il problema è un meglio che ho risolto perché lo stato è 1 allora io mi sono calcolato quanti quante quadruple c'erano dato che io sapevo nelle posizioni che avevo memorizzato prima che qua ce n'erano 2 qua ce n'erano 3 qua ce n'erano 2 qua ce n'erano 3 per questo che mi è servito sapevo alla fine che era 2 più 3 5 e allora ho detto che lui deve andare ad analizzare tutti tutte le stringhe della mia matrice dalla 2 che è questa perché questa qui sarebbe in posizione 0 vi ripeto cosa stiamo parlando di matrici 0 1 2 3 e 4 quindi dalla 2 alla 4 quindi 5 deve essere maggiore di 2 la i decrementa quindi sarà 5 maggiore di 3 5 maggiore di 4 5 maggiore di 5 esce dal ciclo l'ho usato a decremento ora cosa fa una volta che analizza le quintuple o meglio le mie quadruple controlla il carattere che sta analizzando quindi noi ci troviamo qua al momento ci troviamo qua nello stato 1 dove se legge lo 0 lo restituisce con lo 0 infatti lui ci rimette lo 0 va a destra e torna di nuovo lo stato 1 quindi sta tranquillamente qua se legge l'1 però lo sostituisce con lo 0 torna a sinistra e va allo stato 2 e quindi va qui ora siamo a sinistra stiamo analizzando questo carattere questo carattere tra i due chi è che è leggere lo 0? questo quindi se legge lo 0 lo risovrascrivi e vai di nuovo a sinistra leggi questo carattere se trovi l'1 sostituisci con l'1 e vai a destra però torni allo stato 0 rileggiamo questo se leggi lo 0 cosa fai? lo rimetti con l'1 e vai a destra e via così come avete visto fino ad aver sostituito poi i valori perché da qui poi passa l'1 lo 0 lo riscrive l'1 diventa 0 lui torna a sinistra dove lo 0 rimane 0 l'1 rimane 1 torna a destra ci scrive l'1 ora va a destra di nuovo e quando nello stato 1 trova il cancelletto io qua c'ho scritto il punto in realtà magari era più carino di nuovo metterci lo 0 ecco quindi qua l'avrebbe al posto di metterci il punto perché mi sono dimenticato di correggerlo col punto ci rimette lo 0 torna a sinistra va nello stato 3 fino a quando ritrova gli 0 va avanti arriva all'1 mette il cancelletto e allora è così ha separato tutti gli 1 dagli 0 e gli 0 li ha messi fuori senza perderlo ok voi avete visto il punto se non sbaglio no non avete visto il punto evidentemente allora l'ho corretto ecco sì qua sotto l'ho corretto dove appunto lui ha separato tutto quanto abbiamo i nostri 0 fuori e i nostri 1 e qua vabbè la linguetta si è fermata perché è arrivato alla f di fermo che avete visto nella mia quadrupla cioè qua f di fermo destra 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 sinistra sinistra destra sinistra 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 fermo quindi cosa ha fatto lui ha sostituito nel caso ciò che leggeva era valido ha sostituito il valore all'interno della cella come abbiamo fatto adesso nell'esempio di nuovo tecnicismo no neanche tecnicismo cosa sto dicendo aspetto grafico da farvi vedere controllo se vado o a destra o a sinistra o se mi devo fermare se vado a destra la cella aumenta di 1 quindi la mia linguetta la mia testina si sposta a destra di 1 e lo stato dato che questo qua era un carattere che avevo messo all'inizio lo prende non come valore in char ma come carattere vale 48 in esci quindi ho detto il valore meno 48 così riesco a ottenere lo zero effettivo per cui poi mi riesco a muovere all'interno del mio vettore posizione dove 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 ok quindi esci dal ciclo esci dal ciclo se invece è f spostamento che era una variabile che avevo messo diventa f e a quel punto lì esci esci dal ciclo rimostro per l'ultima volta e basta e concludi ed è finito qua e quindi questo è il nostro risultato potete provarlo se avete magari qualche esercizio di touring con quintuple o con altri modi insomma di provare un attimo a convertirlo ma veramente non fatelo ecco non fatelo però se volete è disponibile su github trovate il codice ribadisco il fatto che se lo volete magari portare a migliorato in un altro linguaggio in python in in quello che vi pare per me va benissimo lo proverei anche e nient'altro quindi questo qua è il procedimento a macchina di touring come vedete lui non ha cioè nel mio algoritmo io non ho memorizzato i valori che tenevo ho semplicemente sostituito mediante un ragionamento logico touring in pratica è totalmente logica non va a memorizzare i valori e infatti poi a livello teorico ne andremo a parlare perché sarà molto interessante la storia di touring come lavora poi nel lato specifico e pratico e tutto quanto però questo video qua dovevo farlo moralmente bisognava farlo e allora l'ho fatto per questo video qua quindi è tutto noi ci vediamo a un prossimo video se non siete iscritti al canale iscrivetevi seguitemi su telegram e su instagram e noi ci becchiamo alla prossima ciao ragazzi ciao